proviamo la linea nuova e siamo andati un po dritti sì sì o fai questa qua e non è ancora da girare a destra sì in realtà questa qua era quella easy che però comunque c'è un bel gradone in uscita non è male non è male quel gradone noi facciamo la vita non è male sa variante non è male minchia tra polvere e foglia ragazzi non era così quest'inverno grazie a tutti